Nel mio mondo non esiste la magia nera, non esiste la magia bianca, non esiste la magia rossa, non esiste la magia verde, non esiste la magia gialla. Esiste una tecnologia. Quello che la differenzia, che differenzia, diciamo, chi è l'operatore. L'operatore e il suo atteggiamento mentale nel momento in cui sta operando. Se lui sta operando dai livelli bassi della mente, si può chiamare, si potrebbe chiamare, viene ordinariamente chiamata magia nera. Se opera con i livelli alti della mente, invece viene chiamata, si potrebbe chiamare, magia bianca. Però è forviante, tutte queste due cose sono forvianti, perché uno dei grossi trucchi che non si conoscono, che mi sembra di aver anche accennato nell'ultima conferenza, è che è un trucco antichissimo e sottile, è quello di polarizzare una persona. Lo specchio si trova esattamente al centro. E poi ci sono le ombre. Le ombre si trovano, tutti i centri d'ombra si trovano lungo le gambe, se uno vuole trovare una localizzazione fisica. I centri d'ombra esistono perché? Perché esiste un'ombra? Perché c'è una luce, no? Giusto? Cioè l'ombra può essere proiettata perché c'è una luce, giusto? L'albero proietta un'ombra e quindi c'è l'ombra dell'albero nel momento in cui c'è una luce che illumina l'albero. Quindi la luce che cos'è? È l'attenzione, l'osservazione. Voi avrete notato che tutte le volte che avete un pensiero positivo, istantaneamente si genera anche il pensiero negativo. L'avete notato? Non dite di no perché è una cosa che funziona su tutti. Tutte le volte che pensate aiuto questa persona subito dici questo è bastardo, no? Adesso sto esagerando, no? Ti viene sempre il pensiero esattamente speculare, negativo, tutte le volte, ma ogni volta che la mente formula una cosa positiva. O una cosa di un certo tipo, positiva o qualunque, comunque uno la voglia chiamare, si genera subito la sua ombra. L'attenzione che viene posta in quell'area fa generare l'ombra. Quindi, se io voglio aumentare l'ombra sul pianeta, che cosa faccio? Dico a tutti, sii buono, sii amorevole, comportati bene. Mi sto polarizzando in questo modo. Io tutte le volte che faccio una predica di questo tipo, sto polarizzando, sto polarizzando voi. Faccio in modo che istantaneamente voi generate anche il pensiero opposto e ho creato l'ombra. L'ombra non può esistere senza la luce, giusto? Quindi io per creare l'ombra ho bisogno della luce. È chiaro il concetto? Semplice, no? Sembra una cazzata. La funzione è esattamente così. Io per creare l'oscurità, quindi per creare la zona d'ombra, devo fare in modo che una luce illumini l'oggetto. Quindi io vi focalizzo su quella cosa, che in apparenza è positiva, vi faccio il buono della situazione. Oh ragazzi, amatevi tutti, siate dei bravi ragazzi, trattate bene le persone. Istantaneamente voi generate il pensiero negativo e avete fatto esattamente quello che io volevo. Cioè generare quell'ombra. Questo vi potrà spiegare perché in tantissime occasioni, e questa è una tecnica che può essere utilizzata anche per manipolare le persone, qui stiamo già parlando di stregolari, non aspettatevi che vi insegno a fare cose particolari perché non voglio far uscire poi dei mostri dopo. Magari poi sono cose che si fanno privatamente, queste cioè a persona a persona, quindi in una sessione pubblica non si fanno altre cose, però i principi di funzionamento sono questi. Il principio di funzionamento è che io innanzitutto in questo mondo, che è un mondo polare, per generare la polarità ho bisogno di focalizzarmi sull'elemento polare reale. L'elemento polare reale è la luce. Io ti polarizzo sulla luce. Tu semplicemente per compensazione generi l'ombra. È un dato di fatto. Infatti che cosa vi dice la tradizione? Ed è una verità sacrosanta. Che per effettuare un cammino di liberazione bisogna depolarizzarsi, quindi diventare il famoso osservatore, testimone, testimone, osservatore che non giudica, che non genera né luce né ombra, giusto? Dicendo una cosa che dovrebbe essere, no? Per chi non ha fatto, vabbè oddio, per quelli che non hanno mai letto di queste cose, è una cosa nuova, ma per chi ha fatto anche un pochino di yoga, eccetera, eccetera, è ripetuto da tutte le parti, lo diceva Buddha, lo diceva Krishna, lo dicevano tutti, no? Devi essere sempre, no? L'azione senza scopo, no? La famosa. Che cos'è l'azione senza scopo e l'osservatore? È la luce a mezzogiorno. Quando la luce si trova in cima, no? Quindi io non la sto, non gli sto dando una direzione, una polarizzazione, quando la luce si trova esattamente allo zenit, non viene generata nessuna ombra. Soltanto in quel momento la realtà viene percepita così com'è.